Wella ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa Elm Creek Come sempre ragazzi vi vado a ricordare che in descrizione potete trovare un link che vi permette di comprare Questo e tanti altri giochi scontati Allora dunque ragazzi, oggi dobbiamo prendere la fabbrica per produrre i semi Alla fine una mezza idea mi è venuta Ho pensato, beh, dato che abbiamo buttato via un terreno per la fabbrica del pomodoro Ho pensato che potrei comprare un terreno e piazzarci su anche questa fabbrica dei semi Così che recupero un terreno visto che mi manca E adesso tra un attimo vi faccio vedere quale Intanto devo mandare a casa questo mezzo Che tanto qua ormai non c'è più niente da fare Sta bene Allora in pratica ho pensato di comprare il terreno 40 Perché c'ha tutto sto spazietto libero Qui c'è un mucchio di spazio libero e ci potrei mettere quindi Per l'appunto ci potrei mettere qua alla produzione Perché non è che c'è molto, o sennò c'è il 54 Ma il 54 è 180 mila E me ne sai che mi conviene il 54? Ah se compro il 40 mi danno sto pezzo di terra qua però Utile Devo andare a vedere Devo andare a vedere Questo pezzo di terra qua mi danno Beh Beh potrei anche mettere qui la fabbrica ci sta bene E' un bel pezzo di terra Peccato che sto pezzo di terra è tutto storto O magari ci potrei mettere gli alberi qua Però è un bel pezzo di terra questo Questo è un gran bel pezzo di terra Però Anche il 54 Ha un bel pezzo Che poi c'ha pure C'è pure l'orzo bello pronto E qua Diciamo che lo spazio qua c'è pure Per mettere questo edificio per la produzione Ci sono vari alberi che potrei abbattere Quasi quasi compriamo il 54 Visto che c'è l'orzo Pure fertilizzato al 100% Ma mi sembra una buona idea Così recupero anche l'orzo Anche perché mi pare che su quel terreno non c'è un cavolo Sul 40 mi pare che non c'era niente Così due piccioni con una fava come si suol dire E allora mi servono Eh parecchi soldi Ok Allora andiamo a comprare il 54 Compra E ci portiamo immediatamente la miti trebbia qui Così Andiamo a trebbiarlo Eh ma dove cavolo è Ok Anche perché qui ancora la colza non è pronta Eh la lama però mi serve Terreno numero 54 Ah È là sotto È anche vicino alla farm Non è neanche tanto complicato arrivarci Possiamo anche tagliare per di qua Tanto alla fine voglio dire Ci sono solo delle pietre Cominciamo a dispiegare la miti trebbia E ora ci andiamo a piazzare quindi questo edificio lì nello spazietto che mi avanza Ehm Facciamo Che la stacco Meno male che il treno non sta passando Aggancia Ok Lama dispiegata pronta all'uso E allora raga recuperiamo un bel po' di orzo Non fa mai male Mi serve se come non ho accesso a questo terreno Ehm Ho appena comprato eh C'ho l'atto eh Sono stato dal notaio eh Ho fatto tutto eh A posto Vai operaio Ok Mentre che l'operaio lavora Allora andiamo a piazzare Questo Sito produttivo Come lo vogliamo chiamare Seed production Ok Io lo vorrei mettere o qui O meglio qua Il problema è che Il problema è che andrebbe prima spianato Perché Ah no in teoria me lo spiana lui Perché costa di più Così 45.000 mi fa il danno 48.000 me lo spiana lui Mi costa pure di meno Ok Girato da questa parte E lo andiamo a piazzare Allora più o meno qua E ho paura che mi fai il danno Però a dirvi la verità eh Speriamo bene Incrociamo le dita No me l'ha messo bene Cavolo Me l'ha messo Molto bene Molto molto bene Vernice Così ci andiamo a collegare qua E quindi io in pratica mi sono fatto una strada Ok Poi Qualche luce Visto che qua non si vede niente Un paletto magari Qualcosa Dei paletti all'ingresso Cioè delle luci all'ingresso E' buona Non riesci in dare no Perché mi costa Un botto di soldi Ok possiamo entrare da qua Volendo ci possiamo mettere altre cose lì Però diciamo che raga Sfruttiamo ovviamente questi spazi Uh è già piena la miti trebbia Orca miseria Wow Faremo un botto Da questo terreno Da questo terreno Ricaveremo un botto Di risorse Ah beh aspetta Aspetta Ho un'idea Brillantissima Potrei scaricare Il primo carico Per fare i semi Il primo carico Che abbiamo Utilizziamolo proprio Per i semi Perché no Questo primo carico Che abbiamo Lo potrei proprio Usare per far semi Visto che la fabbrica Serva a quello Ok Allora Andiamo Ah andiamo un attimo A scaricare questo E poi lo devo rimandare Su al terreno 15 Così possiamo Cominciare a fare Il cibo Anche per le vacche Che come avete visto L'abbiamo finito Vediamo un po' Di scaricare Quindi Scariciamo Sto fieno Va bene E lo rimandiamo Su Scarica amico Scarica Ok Per caso Qua dentro Abbiamo anche Eh no Non abbiamo Oh Dov'hai C'è passamo Col cavolo Non abbiamo Purtroppo Dell'erba Io speravo Che avevamo Dell'erba Quindi Perché devo dare Anche cibo Devo anche dare Cibo alle Come si chiama Alle pecore E non volevo Utilizzare Il fieno Ma non ho Erba Quindi Quindi insomma Vabbè Vabbè Allora Facciamo una cosa Stacca la lama Questo primo Carico Di Di orso Quello che è Magari noi Glielo diamo Tutto Ma Buona parte Lo utilizziamo Per Farci I semi Mostro lampione E romperà Le scatole Ok Perfetto Lo prende Allora Andiamo a vedere Brevemente Questa Linea Produttiva Dovrebbe essere In fondo Semi Ok E' già Attiva Attiva Immagazzinamento Materiali Mancanti Aspetta Quali materiali Mancanti Fammi capire Ma non mi direi Che ci devo Mettere Tutto Ci devo Mettere Tutte Queste Cose Io pensavo Che bastava Una cosa Non che dovevo Mettere Tutto Quindi per fare I semi 20 40 60 80 100 No non ci voglio Credere Cioè Praticamente Per fare I semi Devo mettere Orzo Frumento Avena Mais E sorgo Non è come Nei vecchi Farming Che bastava Uno O l'altro Non pensavo Che era così Allora a questo punto Ci metto poco Orzo Quindi in pratica Mi devo Mi devo procurare Ora Vabbè Ora Senza fretta Perché Dove li piglio Il frumento Non è un problema Ma il sorgo Il mais Sì Queste cose Sì Cavolo Eh Eh vabbè Eh vabbè Piano piano Cercheremo di Procurarci Queste cose Speravo che era più semplice A dirvi la verità Pensavo che Poteva essere Più semplice Vabbè Una volta che Avremo tutti Gli ingredienti Diciamo così Riusciremo comunque A fare i semi Vabbè Tanto fretta Non ne ho Perché da parte Ho ancora Un po' di semi Quindi Non è che Rimango fregato Cioè Non mi mancano Eh ma qua Però la strada È stretta Eh Quel carrello L'ho proprio Messo in mezzo Alle balline Ma di qua Ci arrivo io Tutte le strade Più complicate Ok Vabbè Dai È praticamente Qua davanti Va Vorrei andare A vedere Quello che Io Ho Nel magazzino Il frumento Si può anche comprare Ma non ha senso Comprarlo Ovviamente Allora Andiamo a vedere Cosa abbiamo Nel magazzino Eh no Non abbiamo Frumento Non abbiamo Niente Ma niente Di niente Di niente Di niente Ripeto Di niente Tantissima paia Però che ci devo fare Con tutta sta paia Niente Purtroppo raga Con i semi Siamo rimasti fregati Non pensavo che era così Vabbè Volendo la mod Ma la posso anche Modificare Volendo potrei anche Modificarmi la mod Se proprio volessi Che Che produce Con qualsiasi cosa Cioè Sapete bene Che Volendo potrei anche Farlo Se non voglio Così Se non voglio La vita così complicata Però Boh Non lo so È pur sempre una mod Che sta nel mod Ufficiale E a proposito Ragazzi La mod Dei semi Della fabbrica dei semi Si trova nel mod Hub Però Vabbè Insomma Se volete In descrizione C'è il link Con la lista Delle mod Che uso In questa serie Allora Eh Dobbiamo Da mangiare Agli animali Va Niente Insomma Ma fregato Io speravo Che ci bastava Anche solo Una cosa E invece No Ci vuole Tutta quella Roba Alla Allora Facciamo Per cominciare Una razione Mista Per le Vacche Ancora Un po' Di Fieno E mo' Andiamo A prendere L'insilato Peccato 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 Ma fregato Speravo Che Che non Era così Complicato Insomma A proposito Di Insilato Ma No Non lo possiamo Non ho Piantato Mais Perché anche Mi sa che poi Comunque Allora Facciamo Allora Facciamo così Per la prossima Volta Ci procuriamo Seminiamo Frumento Seminiamo Mais E sorgo Così Riusciremo Ad avere Tutto quello Che serve Per fare I semi Ok E per forza Non si può Fa' Diversamente Tanto Ora Con Queste Produzioni Così Lato Di scarico Destra E mi Sta bene Andiamo Un attimo A dare Da mangiare Che non C'è rimasciuto Pi niente E devo Anche Dar da mangiare Alle pecore Cavolo Scarica Che non c'era Più niente Qua Non c'è neanche La paglia Difatti La dovrei Caricare Scaricare Vabbè Ah L'ho mandato Sopra Vero L'ho mandato Sopra Quello Vabbè Allora Tu scarica Ancora Qua E A proposito Restituiamo Un pochino Di debito Che tanto Oramai E Ah tu sei Ah no Non sei arrivato Perché ti sei bloccato Qua Vabbè Difatti mi chiedevo Ma Plin Plin Non l'ha fatto Dobbiamo anche finire Qua piano piano Con la La Fieno Intanto Lì Ci siamo Fatti Un capanno Sì ma Una cosa Non mi sta Proprio Piacendo Non mi sta Proprio Piacendo Sto coso Qua Blocca il Passaggio Ci perdo Dei soldi Ma Mi blocca Il passaggio Decorazioni Produzione Do cacchio Stai Attrezzi Te vado a mettere Più o meno Qua Va bene Così non è in mezzo alle bolle Era proprio in mezzo alle scatole Allora Ma Ancora qua C'ho da finire Col Ranginator Eh già C'è da finire pure Con quello Accendi In teoria Qua Non dovrebbero starci Le vacche urlatrici Ormai non metto più La prima persona C'ho una paura Di beccarmi Le urla Delle vacche O delle pecore E Che poi Non vedo l'ora Che Non vedo l'ora Che rilasciano L'aggiornamento Raga Perché Voglio dire Non si può Non si può Ma non si può Con le vacche Che ti urlano Nelle orecchie Che periodo è comunque Va È periodo di semina Dobbiamo controllare Dobbiamo controllare Se è periodo di semina Così possiamo eventualmente Mettere Mais Sorgo Frumento Mi servono Per i semi Anzi Veramente le cose da mettere Sono 5 Orzo Frumento Mais Sorgo E avena Vero E anche l'avena Allora l'avena E il frumento Volendo si può anche comprare Però non ha senso A questo punto Tanto vale che mi compro direttamente i semi No? Che senso ha? Non ha più senso Allora qui per ora Non si può andare avanti C'ho ancora tante di quelle Ma Scarica qua va? E io pensavo Ma che fa? Non va? E vai no? E vai Andiamo pure qua va? Aiaiai Ah già Devo dare Devo anche dare appunto Alle pecore Il cibo Vero? E vabbè Ormai Farmo una cosa Finiamo un attimo qua Così mando un altro carico di erba giù Che mi serve questo coso tutto snodabile ci vorrei tanto mettere l'operaio ma ho dubbi che sia ma ci proviamo a lo mette l'operaio ah non pensavo ok e vabbè no finiamo un attimino questa cosa qua e poi lo mandiamo in farm avanti che tempo che lui si fa la strada ecco che ci abbiamo un bel carico dai va bene anche il 94% poi riprendo da qua speriamo che quell'operaio ci azzecca ok te ne puoi tornare in farm amico mio e io vado a dar da mangiare alle pecore allora vediamo dove sta eccolo vai prendiamo non lo so prendiamo 20.000 facciamo un pieno di sì possiamo anche fare un pieno di fieno tanto quello che avanza lo posso utilizzare per fare un'altra reazione mista ovviamente allora vai di fieno fa in bel carico lato di scarico rimane destra adesso è sinistra ci abbiamo 17.000 va bene ma già quello pieno di nuovo è con la doppia produzione con la mod della doppia produzione raga e che ci sta a riempirsi oh accendiamo la freccia che devo un attimo scaricare qua ma che bello scarica che manca il fieno quasi a posto lato di scarico adesso destra diamo un attimo da mangiare a quest'altro e poi torniamo a scaricare quella trebbia che wow pazzesco beh tutto sommato raga aver comprato il treno 54 non è male considerando che sto a raccogliere un mucchio di orzo allora qui ce ne vuole a volontà eh cavolo abbiamo scaricato 8.000 di orzo per fare i semi qua ne abbiamo 21.000 più 14.000 ce n'è a lui e abbiamo fatto già più di 40.000 di orzo allora scariciamo un altro bel pieno un bel pieno di orzo peccato che ma no aspetta ma questo non è orzo questo non è orzo questo è frumento o me sbaglio che cos'è questo non mi sto a ricordare che cacchio è un po' me ma no è orzo è orzo è orzo è orzo è orzo giusto giusto anche lui è orzo no perché i simboli si assomigliano giusto giusto pure lui è orzo perché anche io avevo seminato orzo magari fosse stato frumento almeno avevo sia orzo che frumento per fare i semi a quest'ora invece no già abbiamo quasi fatto un pieno di abbiamo già abbiamo già quasi fatto un pieno di camion ok qua me ne avanza veramente poco sto pochetto che avanza ci posso fa ci dobbiamo fare un'altra rozione mista che fa comincio già mo' a caricare quanto ne devo caricare più o meno 6.000 arriviamo a quasi 9.000 così mi tolgo il pensiero ancora un po' stop mi sa che è arrivato quello col fieno buono perché mi serve allora pigliamo 4.000 di 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 coso di paia tutto il resto famo fiene buona il giorno successivo mi dovrebbe crescere colza e barbabietole e quello che era poi boh non mi ricordo forse avevo messo il mais non mi sto più a ricordare cosa c'è sul 47 e chi se lo ricorda allora mettiamo 4.000 di paia buona e tutto il resto famo fieno ok abbiamo fatto una razione mista lato di scarico famo sinistra ok andiamo a dare quest'ultima razione mista ah si ma avete detto Nick che devi riparare questo veicolo qui ma non serve raga non importa perché tanto la razione mista la fa pure se è rotto quindi non c'è motivo di ripararlo sono soldi buttati a posto magnate stateve zitte va che mi urlate nelle orecchie voi ogni volta già quello lampeggia oh beh meglio no più raccolta abbiamo meglio eh sto campo è pieno di pietro mo vediamo qua quando diventa pieno che è già è pieno allora un altro carico qua ce l'abbiamo poi te ne torni a terreno 15 ok scarichiamo vai poi la trebbia mi ha detto che è piena e ci abbiamo fatto non poco eh non poco quasi quasi che esce quasi un altro carico quasi abbiamo riempito il camion e un bel po l'ho dati alla fabbrica per i semi anche ah qui hai fatto il pieno ottimo ok va bene va bene ottimo quindi abbiamo fatto il pieno al camion dai in pratica si l'abbiamo fatto va bene ragazzi vedo che il tempo è volato via quindi adesso devo concludere andiamo a vedere un po' da vicino questa fabbrica dei semi prima di concludere ve la faccio vedere quindi avete visto che per funzionare questa fabbrica necessita di 5 cose diverse purtroppo io speravo che era io speravo che era come la fabbrica di farming 19 che tipo bastava anche solo il frumento e i semi li faceva e invece questa fabbrica no vuole tutto questa fabbrica vuole purtroppo tutto e quindi ce la dobbiamo prendere così com'è va bene allora ragazzi io vado a concludere il gameplay che il tempo è volato spero che vi sia piaciuto vi ricordo quindi che in descrizione trovate un link con la lista delle mod e anche un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati vi saluto ragazzi ciao alla prossima ciao a tutti Grazie a tutti.